Terzo test stagionale, terza vittoria per il Pescara che a Pianella si impone per nove reti a zero contro la locale formazione. Applausi all'inizio per l'inaugurazione del nuovo impianto sportivo, poi il Pescara fa subito sul serio. Ancora si conferma ispirato, sottoporta Cuppone, nel primo tempo doppietta per l'ex giocatore del Potenza. A segno anche Meic e Giabuà nei primi 45 minuti, nel secondo tempo il tecnico Colombo cambia a dieci undicesimi, resta in campo solo Giabuà. Ma le andiamo a vedere le scelte del tecnico Biancazzurro nel primo tempo con Plizzari tra i pali. Gli esterni sono da un lato Saccani, dall'altro De Marino in grosso e Pellacani nel cuore della difesa con Lombardi, Meic e Giabuà in mediana. Chiarella a supporto del tandem composto da Blanuta e Cuppone. Nel secondo tempo dicevamo solo Giabuà resta in campo, spazio per Mora, spazio per Cancellotti, per Milani. Per un ottimo Amore che ha impressionato davvero tanto nel ruolo di trequartista, Amore che ha trovato uno dei cinque gol nel secondo tempo. A segno anche Lescano, a segno entrambi i centrali difensivi, Gianess e Veroli. E' stato comunque un test interessante per i biancazzurri al di là del valore dell'avversario. Prossimo appuntamento domenica a Pineto nel classico triangolare. Le parole nel dopo partita del presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Vi ricordiamo il direttore di gara Spadaccini della sezione di Chieti. Presidente Sebastiani, terzo test, terza vittoria. Soprattutto al di là del valore degli avversari, terza prova convincente. Sì, oggi era una giornata di festa, siamo venuti qua per inaugurare il campo nuovo. Fa sempre piacere portare un po' di movimento nei paesi limitrofi, anche perché, come giustamente diceva il sindaco, noi siamo comunque una realtà in questo momento importante dell'Abruzzo. Speriamo di tornare ad essere ancora più importanti, però la squadra si sta divertendo, si sta preparando molto bene. Manca ancora qualcosa, però siamo già abbastanza avanti. Guardiamo allora un po' al mercato. Quella di oggi è stata la giornata degli annunci. Kraja, mi verrebbe da dire finalmente. Boben dalla Ternana e il passaggio a titolo definitivo di Frascatore alla Turris. Sì, sì, abbiamo chiuso queste tre operazioni. Kraja era una storia infinita, ma no, perché la dirigenza dell'Atalanta non era a Bergamo, erano, se non vado errato, in Inghilterra da qualche parte per giocare. E quindi abbiamo dovuto attendere il rientro di percassi, però l'accordo con la società c'era già, con il giocatore anche, il giocatore è venuto veramente con una gran voglia di fare bene. Speriamo che possa essere anche lui un valore aggiunto. La trattativa con Boben, giocatore importante che due anni fa ha vinto questo campionato. La trattativa con Boben, devo dire, è stata molto semplice, perché il ragazzo, nel momento in cui ha capito che aveva poco spazio a Terni, con il suo procuratore Daniele si è sentito molte volte, il ragazzo aveva dato la priorità a Pescara in caso di C, quindi abbiamo fatto velocemente la Ternana. Anzi, devo ringraziare Luca Leone, ma soprattutto il presidente Bandecchi, che come al solito si è dimostrato disponibile, ci ha dato una grande mano per questo ragazzo e quindi il ragazzo è potuto venire a Pescara.